Ciao, sono Gianluca Fuiano, volevo presentarvi la mia nuova batteria. Avevo bisogno di un set dinamico e innovativo, per questo ho scelto Le Soprano, batteria costruita da Marco Gambirasio. Il set è composto da un tom 12x8, un timpano 14x14, cassa 20x14, rullante 14x6. In aggiunta al drum set ho integrato una percussione, il Kai Jungle, strumento eccezionale dove la sua peculiarità ti permette di suonarlo sia con le mani che con le spazzole e i mallet. Per quanto riguarda le pelli, ho scelto di montare delle G1 sabbiate Evans sui tamburi, una E-MAD sabbiata per la cassa, il giusto compromesso per mantenere i suoni chiari e tradizionali. Inoltre, volevo ringraziare la UFIP per il suo meraviglioso supporto. Grazie e buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.